A Roseto l'opposizione comunale torna a criticare l'amministrazione guidata dal sindaco Mario Nugnes sulla questione dei due semafori dotati di dispositivo T-RED, che in pochi mesi hanno generato oltre mille multe. Sulla delicata questione in particolare la consigliera Teresa Ginobre, che ritiene che le sanzioni fatte dai due dispositivi installati sui semafori di Colonia Spiaggia e Santa Lucia siano nulle perché mancano gli atti essenziali a suo dire per la loro installazione. Allora, innanzitutto il T-RED doveva essere attivato a marzo, siccome c'erano le elezioni fu attivato il 26 aprile. Ho chiesto l'accesso agli atti, a tutt'oggi diciamo che non mi sono arrivati gli atti, ma comunque io avendo presentato in frattempo un'interrogazione mi ha risposto a questa interrogazione il sindaco con relazione da parte del comandante Grippo dove si dice che hanno elevato 1055 multe, che comunque gli atti che hanno istituito sono le determini del comandante e la delibera di giunta del PEG, quindi di un atto che comprende tutto. La Cassazione il 2 agosto 2024 ha ribadito che ci vuole una delibera di giunta. Quindi a questo punto per me le multe sono nulle. Io tra l'altro ho presentato questa mattina tramite PEC una lettera ai dirigenti, al segretario generale, al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali dicendo proprio quello che sto rappresentando a lei in questo momento, che per me le multe sono nulle. Il dispositivo T-RED montato sui semafori è progettato per rilevare e sanzionare automaticamente le infrazioni al codice della strada, come il passaggio con il semaforo rosso. Tuttavia molti cittadini e rappresentanti dell'opposizione sostengono che il numero di multe elevate in un breve periodo sia sproporzionato e ingiustificato. 1055 multe mi sembrano esagerate perché io vedo un solo atto a luglio dove si dice che erano state elevate 19 multe. Quindi già in consiglio comunale, quando il sindaco mi ha risposto all'interrogazione, gli ho detto sindaco scusi ma quindi vuol dire che queste multe sono state elevate quasi tutte agosto. 1055 mi sembrano veramente tantissime. 160 mila euro, ma torno a ribadire che per me non esistendo una delibera di giunta che individuava il pericolo di quelle zone e che è fatta dalla giunta che dice il T-RED deve stare a Colonia Spiaggia, deve stare a Santa Lucia, non esiste traccia. Quindi per me sono nulla le multe.